ciao a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi voglio mostrarvi un comando divertente come insegnare al cane a stare su due zampe o in piedi come preferite chiamare il comando dunque alla base dell'insegnamento di qualsiasi comando c'è sempre lo stesso principio si prende il premiettino lo si passa davanti al muso del cane e lo si indirizza verso il movimento che noi desideriamo che lui compia ogni volta che lui farà la cosa corretta verrà premiato alla fine di essere chiari col nostro cane dobbiamo far sì che il premio arrivi sempre quando lui fa la cosa giusta quindi all'inizio appena alzerà le zampe gli darò il premietto e poi cercherò di tirarlo sempre più in alto e di allungare sempre di più la durata della tenuta sì sì bravo fle ancora in piedi bravo fle bravo fle bravo fle almeno il momento il tempo bravo fle Adesso vediamo con Artax che è un livello un po' più avanzato, tolgo i premietti dalla mano destra, quindi non addesco più il cane col premietto, ma faccio affidamento sulla sua memoria. Lui ormai dovrà aver associato questo gesto come l'alzogli in piedi e poi premio con l'altra mano. Questo serve a slegarlo dalla dipendenza dal premietto, se no succede che il vostro cane se fiuta il premietto forse farà l'esercizio, altrimenti no. provo anche a togliere il gesto per premio con l'altra mano fino ad arrivare al comando il vocale. Bravo il mio cane. Così si fa. Arta, via, via. In piedi. Grazie. 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 Grazie.